Da dove vieni? Ho bisogno di saperlo. Anch'io. Ma che cosa? Ho bisogno di te. Cos'è quella cosa? Perché lo chiedi a me? Perché l'hai abbattuta. Ci servono più armi. Ci faranno fuori. Lei chi è? È l'unica a sapere chi sono. Tu sai chi sei, devi solo ricordarlo. Prendete le pistole, ce ne andiamo. Avanti! Liberiamo i nostri! Abbiamo un vantaggio. Loro vi sottovalutano. Possiamo intervenire. Se la cava bene.